Allora, ne dobbiamo parlare un attimo, di quello che è appena successo. Sono le 10 e 26, io, contento, ho finito di registrare sul mio video di Minecraft. Andiamo a vedere le clip che ho fatto. Vuoto, 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 vuoto. OBS, questo programmino qua che ho alla mia sinistra era crashato. Io non me ne sono minimamente accorto e non mi ha registrato un cazzo, un cazzo, un cazzo. Il che è sorprendente. Allora, io dico, non ho fatto molto però. Mi son girato, visto che non c'erano le clip, sono rimasto di corrente a secondi così. Che devo fare? Niente. Ah, io ho nel culo. Pesantemente. Niente. Ci vediamo, facciamo un altro video. Forza, così. Questa era l'intro del video di Minecraft, episodio 841. Cosa succede se costruisci un mob spawner a 250 blocchi d'altezza? Esattamente. Era venuto bellissimo. Ci vediamo in video. Allora ragazzuoli, intanto. Mi sta a dire, sta a registrare. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo video. Ci siamo tornati su Minecraftita. Settima stagione, episodio 841. Ok, bene. Allora, che cosa è successo in questo episodio? Faccio un sunto, tipo, cosa... Minecraft... no, aspetta, come li facevano? Cosa è successo nelle puntate precedenti? Allora... Un free selvatico decide... Ma porca miseria, c'ho un mob spawner che non sto utilizzando. A grandi altezze spawnano mob veramente... Cioè, spawnano tanti mob perché... A grandi altezze spawnano tanti mob perché non hanno aree di spawner. Quindi possono spawnare soltanto là. Oddio, da qui la figata. Cazzo, facciamo il mob spawner a 250 blocchi. Dagli ed è tacco e dagli ed è punta. Porca miseria. E sicché che prendo, vado di sotto, prendo tutta la terra cotta che ho. Dato che avevo un sacco di colorante giallo, lo faccio. Colorante giallo è quello. E il risultato? Questo pillarone enorme 4x4x4x4x4x4x4x200 blocchi. Non so quante altre. Fino a 200 e basta, hai rotti i blocchi. Di... Con questo coso. Facciamo questo pillar e iniziamo a costruire. Fail su fail. Metto dell'acqua sotto per cadere, cado mille volte, muoio male, diverse volte, 3-4. Per la precisione. Infatti, come potete notare, ho 4x5x4x4x4x7. Detto questo, ho anche un botto di pollo per il semplice fatto che... Fiega. Mi serv... Cioè, ogni volta che andavo là mi prendevo del pollo. Che cosa succede? Costruisco tutto il mob, praticamente tutto il mob spawner. Guardate là. Ecco, lo potete vedere tranquillamente là. C'è sotto tutta la parte di cobblestone. C'è la parte fatta di mob di spawning con la yellow terracotta. E c'è... Propriamente basta. Dobbiamo però finire il tetto. E io ho finito tutti i materiali da costruzione, tranne la clay. Detto questo Di che lo faccio Di clay ovviamente no Perché tanto che ci frega Il sopra non si vede Possiamo tranquillamente adattarlo con la clay Anche la clay non colorata Questa è la terracotta semplice E infatti così sarà E non si chiama più clay Si chiama terracotta infatti E quindi adesso andiamo nel magazzino A prenderci la terracotta Poi vi farò vedere Effettivamente i progressi Quello che ho fatto sopra Ah un'altra cosa che non vi ho detto Che vi ho detto che vi dico adesso Che porca miseria I video vi stanno tornando a piacere un sacco Sono felice di questo Abbiamo passato un agosto abbastanza disastroso Però che devi fare agosto e agosto Quindi sono veramente contento e felice Grazie ragazzoli per tutto il supporto Che state dando alla serie Sono contento Allora c'è un sacco di brown Brown C'è un sacco di red terracotta C'è un po' d'orange terracotta Io però preferisco Brown Dai, 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 dai brown Prendiamo un po' di brown terracotta E torniamoci di sopra A finire la costruzione del tetto Ci manca effettivamente solo il tetto E poi ci manca anche l'acqua Faremo una fonte d'acqua infinita Ovviamente perché un po' d'acqua serve E poi andremo sotto a smantellare Inizieremo Praticamente avremo il mob spawner fatto Mi dispiace che non avete visto La costruzione del mob spawner Porca miseria Però È andata così Ed eccoci qua ragazzuoli A bordo del nostro Del nostro mob spawner estremo Vedete questa era la cosa d'acqua Che avevo fatto per salire in cima Ora Noi saliremo in questo modo Guardate un po' che culo Guardate, guardate, guardate Che cosa simpatica E sali così E poi rompi i blocchi E per forza signori belli Così o niente Così, effettivamente Per forza così E poi risali E poi rompi i blocchi E poi risali E poi rompi i blocchi E poi risali Così spacchi il piccone E in tutti i casi No, riesci a risalire Perdi anche un po' di blocchi Però purtroppo è così per forza Ed eccoci qua ragazzuoli Voilà Ce l'abbiamo fatta Siamo saliti Fatemi controllare No, perché adesso C'ho la fobia Che sta registrando No, l'ansia No, poi un'altra volta Il video Signori belli Cioè, dopo un po' Stufa, no? Non è che puoi fare lo stesso video 3-4 volte Cioè, effettivamente E no, che so Ok Adesso ok, va bene Controlliamo un attimo Devo verificare No Non in questo modo Sì, facciamo così Guardate un attimo Facciamo Mi serve un po' di spazio Del tipo Fai così Fai così E fai così Questo lo leviamo E questo lo possiamo mettere Tutto a brown terracotta Pesantemente Brown terracotta Così Tanto finché sto qua Io non spawno a nessuno State tranquilli ragazzuoli Non failiamo Stavolta vi giuro Sono sicuro di non poter failare Non spawno a nessuno Quindi vado tranquillo Al massimo cado io Sì, quello potrebbe essere probabile Ma Dai, non è quotato così tanto Questo lo leviamo E questo lo leviamo Ok, a sto punto Facciamo crepi lavadizia Facciamo anche questa parte Poi mi faccio la fonte d'acqua infinita E vado a fare tutti i paliti a sting Del caso Esatto, ecco qua Ha fatto la Devo fare la cosa Per forza A sto punto Scendiamo Facciamo una cosina del genere E andiamo E andiamo A che fare Oh, 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 oh Il terzo lo mettiamo qua In questo modo Tac, tac, tac Questo lo leviamo Questo lo possiamo anche togliere E allora Se non ricordo male Allora, se faccio così L'acqua maria sotto Vediamo un po' Ah, questo lo chiudiamo un attimo Perché voglio evitare L'acqua maria di chissà dove Tac, e tac Vediamo un po' come funge Cioè l'ho fatto davvero Più lungo del previsto Ah, bravo Frito una volta Eh, allora Questo non serve Questi effettivamente Non servono Perché non ci servono L'acqua L'acqua l'avevo messa qui Io la devo mettere Di qua a sto punto Quindi Questo lo possiamo anche togliere Questi li possiamo Tranquillamente togliere E a sto punto No, non li dobbiamo togliere Facciamo una cosa del genere Giusto Così Tac E poi Questa la possiamo fare Anche così Di parte Guardate un po' Così Così Tac Vediamo un po' Se questo è giusto No, free ancora Un altro blocco Et voilà Signori belli Lo facciamo Per tutti E quattro I lati Poi è finita Abbiamo completato Una volta fatto questo Davvero è È pressoché finita È pressoché finita E voilà ragazzuoli Completata tutta sta parte Continuiamo a mettere L'acqua Bellissimo Io cado Sempre come un tonto E va bene lo stesso Hop 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 Mettiamo questo E torniamo di sopra Facciamo un attimo Un saltino Ricarichiamo l'acqua E la ributtiamo Di sotto Voilà Et voilà Per mob spawner Non lo vedete finito Guardate il lato positivo Di tutta sta vicenda Free guardalo te Perché se Siete quello che ha fatto il video Che nessuno mi vedrà Che poi non è Ma non hai manco fatto il video Perché non hai registrato Che vedranno il mob spawner Finito E quindi Beh Meglio no Almeno facciamo un lavoro Per bene Fatto ad hoc Finito Tranquillo Funzionante Soprattutto Possiamo metterlo già in funzione Vedere quanto funziona Vediamo quanto produce E tutto il resto L'acqua va messa ovviamente Anche qua In modo tale da convogliare Tutto 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 Là in mezzo E poi basta Basta fare il tetto E ragazzuoli davvero Abbiamo completato Ce l'abbiamo fatta Non sembra vero Sembrava impossibile Ma ce l'avevano fatto Amaro Per soli ci vediamo Quando ho completato Il tetto Tento completato E ho anche rimosso L'acqua Adesso facciamo Un buco qua Entriamo Ho preso proprio La parte peggiore Ecco qua Così e così Guardate un po' Perfetto eh Non c'è niente Spacchiamo uno Spacchiamo due Spacchiamo tre E poi ci spacchiamo Anche la terra Sotto i piedi Intanto dovremmo arrivare Porca miseria Giù È notte È notte E sono spavonati Mille mila mostri Questo significa Morire un'altra volta Oppure aspettare Aspettiamo Ragazzi È giorno Ma 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 come è possibile C'è tutta sta luce Da dove passa Scusate Ma veramente Da sotto passi Ma come Ma 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 non è possibile Ma dai Ma non c'è nessuna fessura Ma da dove passa Veramente Ma scusa È come se fosse all'aperto Ma non è possibile Ricaricato Il coso Adesso 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 va bene Perfetto Light zero Voilà Ci spacchiamo questo sotto i piedi E andiamo a finire Ok Ha rallentato un botto la corsa Non so per quale motivo Ok Vediamo un po' Allora c'è una zombie C'è un mister creeper Che dobbiamo uccidere Attentamente Per evitare che Ci venga sotto Mori Non esplode No 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 Perché esplodi Perché esplodi Ma vi volete fare altre Due risate signori L'ultima dei clip Non me l'ha registrato E oggi andiamo A Berlino Vabbè Però io ho fatto il tetto Ho messo gli hopper qua sotto Vi faccio vedere il tutto Ed è tutto pronto Ormai Tutto finito L'attesa è finita Ridevamo Anche prima su quel Quello schelet Sì su quello zombie Che sta lì E fisso Vabbè Si è arrampicato Uno zombie Uno zombie Ragno Come gli umani Come gli umani diventano zombie Anche i regni diventano zombie E si arrampicano Effettivamente non fa una piega Quando sono morto Giustamente Che non avevo preso Infatti mi mancava qualcosa Va bene ragazzoli Detto questo Io vi ringrazio tantissimo Per la visione di Crasciare mi piace Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se avete fatto di condividere Il video su facebook Mi raccomando un pollicione Perché vi giuro Sto video è stata una cosa Pieno di disavventure Ci ho messo Penso quasi due ore A registrarlo Sono le 11 Sarà l'ora tarda Non si sa che cazzo faccio Che cazzo dico Non lo so Però vi giuro È stata veramente Faticosa Ragazzoli Un mi piacione Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti